Quelle 29 vittime hanno diritto a che la memoria del loro sacrificio non si perda, soprattutto che non sia stata vana perché tragedie simili non si ripetano più. A questo serve commemorare non solo a rendere omaggio alle vittime ma anche a fare in modo che si possa nel futuro evitare il ripetersi di un fatto simile. Avete detto che noi non vogliamo vendetta, vogliamo solo giustizia. Beh sì, faccio una battuta, che la si voglia o no la giustizia sarà inesorabile, arriverà alla definizione delle responsabilità, bisogna soltanto affidarsi al lavoro dei magistrati che stanno lavorando all'indagine, quindi non ho dubbi che si arrivi a definire verità e responsabilità.